Allora, carissima nonna Luisa, il Lago di Sale parla di una storia d'amore, una storia d'amore enorme, grande, di quelle che ti cambiano la vita e parla di una storia di amicizia, di amicizia vera, di amicizia senza nessun tipo di freni inibitori e senza confini, anche temporali, perché, come c'è scritto qui dietro, è una storia di vita oltre la morte e di amore oltre la vita. Cosa succede alle persone quando arriva nella vita una curva a gomito, quando arriva un imprevisto? Che cosa succede alla gente quando deve fronteggiare qualcosa di totalmente inaspettato? Che cosa resta di noi dopo aver reagito alle prove dure che la vita ci mette di fronte? Ecco, se noi siamo in grado di far sopravvivere quell'amicizia e quell'amore alle prove dure che la vita ci mette di fronte, probabilmente abbiamo capito il senso stesso della nostra vita. Il Lago di Sale parla di questo, parla di una grande storia d'amore, di una grande storia di amicizia. Il Lago di Sale in sé è il luogo dell'anima e la metafora del luogo dell'anima, ma è un posto che esiste realmente, poi se mi farai l'onore di leggere il romanzo capirai perché ho scelto proprio questo luogo. Quindi Il Lago di Sale parla di questo, lo trovi su Amazon e su Vinted. Su Amazon lo spedisci Amazon, su Vinted lo spedisco io e quindi te lo posso dedicare. Il mio account Vinted è questo qua. Grazie mille.